Ci troviamo in via San Giuliano, in una palazzina di estremo pregio. Vediamo questo bellissimo appartamento. Qui abbiamo l'ingresso con porta blindata, un'ampia zona giorno, con anche sala da pranzo. La sala da pranzo è adiacente alla cucina che adesso andiamo a vedere, che viene nata completamente, aridata e dotata di tutti gli elettrodomestici da cui si accede a un piccolo cortile privato. Quindi, rivediamo la cucina, torniamo, qui sono degli armadi office e qui c'è un piccolo bagnetto di servizio. Ritorniamo nella sala, sala da pranzo, da cui si accede a questo bel giardino terrazzato. Ritorniamo nell'ingresso. Notate le belle finiture, pavimenti in marmo, le scale in ardesia. Saliamo al primo piano, dove abbiamo tutto il reparto notte. La cosa bella è che l'appartamento è termoautonomo, quindi le spese condominiali sono estremamente contenute. Ecco, ci troviamo nella prima camera da letto, che è la camera da letto più grande matrimoniale, dotata di tutte le armadiature, a cui si accede a un terrazzo con una splendida vista a mare. Rifacciamo la panoramica della camera da letto. Quindi questa è la prima camera da letto, che è la camera da letto più grande e matrimoniale. Qui vi faccio notare il pregio delle finiture. Proseguiamo e andiamo. In una seconda camera da letto, anche questa adottata di armadiature, volendo comunicante con la camera da letto matrimoniale. Per cui è estremamente comodo, anche se uno avesse un figlio piccolo appena nato, sono comunicanti, ma allo stesso tempo indipendenti. Qui abbiamo il bagno padronale e marmo, rosa, sanità e sospesi, doccia e dromassaggio e doccia. Ritorniamo nel corridoio del disimpegno della zona notte e andiamo a vedere la terza camera da letto, in affaccio sempre su quel terrazzo con la vista sulla bazia di San Giuliano e sul mare. Quarta camera o cameretta o studio. Dopodiché andiamo in una zona servizio disimpegnata, dove abbiamo altri armadiatori. Il bagno di servizio, dove alloggia anche la lavatrice. E un ripostiglio. Per cui ricapitoliamo, siamo in una palazzina di estremo pregio, in via San Giuliano, quindi a due passi da Corsitalia, una delle zone più belle di Genova. Un primo piano, in questo splendido appartamento di 190 metri, composto da un'enorme sala, con sala da pranzo, la cucina e il bagno al piano di sotto. Quattro camere da letto, due bagni e il ripostiglio al piano di sopra. Vi faccio rivedere la sala, la panoramica dall'alto, di nuovo le finiture e qui terminiamo la nostra visita.